Ciao amiche e ciao amici, come fargli perdere la testa facendo di sentire la tua mancanza? Ora, per fargli perdere la testa devi fargli vivere un senso di vuoto praticamente, quindi non puoi partire da nulla ma devi prima costruire un buon potenziale di seduzione perché poi da lì, da quella piattaforma stabile, facendogli sentire un senso di vuoto e vedremo come fare, lui perderà la testa e si coinvolgerà tantissimo con te, lui o lei, comunque questo è utilizzabile in entrambi le situazioni. Allora, prima per acquisire un buon potenziale di seduzione devi agire in questo modo. Devi capire dove sono, diciamo, le sue emozioni compresse e per capirlo basta parlare in generale di vari argomenti della vita. Tieni presente che le emozioni compresse prevalentemente lo sono, diciamo, nelle relazioni sentimentali affettive, ad esempio, perché magari uno vorrebbe vivere il sentimento, l'affettività in un modo e non ci riesce, oppure potrebbero essere nelle relazioni più di natura erotica, di natura sessuale, però potrebbero anche essere, diciamo, emozioni compresse nel lavoro dove la persona vorrebbe esprimersi in un certo modo e non ci riesce, oppure nella vita sociale magari vorrebbe avere tanti amici e non ne ha, insomma. Quindi, per far capire questo, tu butti lì degli argomenti in generale quando interagisci con una persona e vedi dove la persona si aggancia. Come fai a capirlo? Beh, dove inizia a parlare molto di quel tipo di argomento. Una volta che hai capito qual è l'area, diciamo, principale dove lui ha queste emozioni compresse, vai a, diciamo, a farlo ragionare lì sopra, vai a rigenerargli queste emozioni andando a parlare di quell'argomento, chiedendogli, chiedendogli, ma allora questo lavoro ti piace, non ti piace, non ti manca, non ti senti frustrato a non fare quello che vorresti fare, insomma, senza farlo sembrare un interrogatorio, però andando a, diciamo, lanciare dei segnali in modo tale che lui si rigeneri, perché devi tenere presente questo, che se ha un lavoro che non gli piace, probabilmente la sua parte emotiva questo vuole. Per cui vai a agire lì in questo modo, attraverso un dialogo tranquillo. Tutto questo lavoro ti permetterà di acquisire un certo potenziale nei confronti di questa persona, cioè ti considererà una figura affidabile, una figura significativa, per cui, diciamo, diventerà indispensabile da un certo punto di vista nella sua vita. A quel punto lì, diciamo, devi iniziare a fargli vivere poi un senso di vuoto. Quindi a smettere di prenderti cura, diciamo, delle sue emozioni, a non parlargli più di queste cose, a togliergli praticamente il nutrimento emotivo che gli stavi dando, supportandoli in queste cose qua. E in questo modo lui sentirà un naturale trasporto e attaccamento verso di te, perché gli viene a mancare l'aria, tra virgolette, emotiva, per cui la sua parte emotiva perderà la testa e si innamorerà follemente, vorrà averti a sua disposizione sempre la parte emotiva, quindi farà sì che la parte logica si ponga a complementare i tuoi obiettivi, cerchi di fare di tutto affinché tu riprenda a dargli quelle emozioni. Quindi hai una leva, diciamo, che ti permette proprio di coinvolgerlo utilizzando questo sistema. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!